nuovamente insieme bentornati nuova puntata di facciamo finta che permettete di aprire subito con un ringraziamento a tutti gli amici che sono venuti a trovarci a Vicenza a Tiene è stata una conferenza una giornata magnifica quindi grazie di cuore a tutti i compagni di viaggio anche di questa esperienza targata facciamo finta che un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche in chat nei commenti il buon Mesbi in regia e il nostro Davide Ramunno che ritorna insieme a noi come stai ciao ciao a tutti ciao Gianluca grazie dell'invito sto meglio sto meglio mi dispiace non essere potuto venire all'evento in Veneto comunque adesso cercherò di non mancare il prossimo a Torino almeno il prossimo per me ecco abbiamo Milano esoterica il 29 di questo mese e poi la grande conferenza di 15 maggio quindi vi invito fin d'ora a prenotare con il buon Davide così accenniamo anche un po' questa sera a un po' di tematiche che riprenderemo sicuramente dal vivo e che vedono poi anche novità letterarie in arrivo di che cosa parliamo Davide allora il pretesto di questa conversazione mi è fornito dal dalla pubblicazione del mio ultimo libro la virologia dello spirito il risveglio del buonaparte e che uscirà insomma in questi giorni e diciamo che cercherò di fare un excursus proprio di filosofia della storia come poi mio come mia prassi fare in cui andremo a definire innanzitutto proprio il concetto di spirito no infatti virologia dello spirito è chiaramente un vuole essere una sorta di upgrade della fenomenologia dello spirito di Hegel però per il pubblico di oggi e sfruttando proprio l'estetica che tanto è andato di moda negli ultimi tre anni per parlare proprio di qualche cosa invece di spirituale e quindi questo è un è un paradosso no quindi infatti se andiamo a leggere proprio la traduzione sarebbe virologia sarebbe studio l'oda logos no quindi dissertazione ragionamento sui germi dello spirito quindi come se lo spirito avesse proprio delle delle infezioni in realtà è l'infezione declinato in senso negativo il riferimento è chiaramente alle idee dello spirito che però si propagano proprio come i germi no quindi sia quelle buone sia quelle che quelle che quelle cattive ecco e e noi possiamo vedere le tracce le evidenze di tanto di queste attraverso proprio questi germi no dello spirito che cos'è lo spirito e che lo definì zeitgeist quindi lo spirito del tempo lo spirito del mondo jung lo definì lo chiamò inconscio collettivo molte persone di fede lo chiamano dio e rupert sheldrake un biologo e purtroppo per lui un filosofo che ha studiato a cambridge quindi non è ripeto davide ramunno a né ovviamente è degno che di burioni e bassetti comunque assai poca cosa rispetto a questi giganti della scienza e dello spirito ecco lui è stato uno dei primi che ha cercato di tradurre in evidenze biologiche e scientifiche proprio quello che fino a quello che per per secoli è stato un'astrazione no della è stata considerata un'astrazione della ragione o addirittura un dogma cioè cercato di vedere nella natura se veramente esiste uno uno spirito no e a cominciare dagli animali dagli insetti e insomma i risultati delle sue ricerche sono assai interessanti rupert sheldrake scrisse un libro la presenza del passato e in sostanza arriva la conclusione che il passato cioè tutte le esperienze delle degli esseri viventi non viene perso ma viene registrato e quello che tu già luca in alcune puntate poi ha avuto anche modo di affrontare in chiave orientale quando hai parlato della cascia no i soliti i registri della cascia ecco usciamo dal però dal dalle dottrine no dalle teorie che possono sembrare no delle chimere della della ragione non un qualche cosa di concreto no e andiamo a vedere che cosa disse che cosa quali furono gli studi con condotti da sheldrake lui innanzitutto fece dei banali esperimenti tra un padrone il suo cane e in cui il padrone sostanzialmente usciva di casa non gli veniva detto quando sarebbe dovuto ritornare no c'è un certo punto lui mentre era in macchina gli arriva il messaggio in cui viene inviato l'input di tornare a casa ebbene si sono resi conto che ogni volta che gli veniva mandato quindi quest'input di tornare a casa contestualmente quindi nella sua dimora nel suo domicilio il cane andava si avvicinava alla porta ok e andava ad aspettare il padrone quindi come se nel momento in cui la persona ha letto il messaggio con l'input di tornare a casa il suo cane lo avesse recepito no e quindi avesse colto quell'informazione ma questo è soltanto uno dei tantissimi esperimenti che è stato fatto già questa cosa è abbastanza non inquietante è bellissimo no però sembra alludere al fatto che quindi l'informazione il pensiero viaggia lontano dai nostri corpi no e ha fatto ulteriori esperimenti Rupert Sheldrake forse l'ho già citato una volta quello della delle ciconi delle cinciallegre che in una zona di manchester erano riuscite a svitare il tappo del barattolo del latte no perché all'epoca il latte veniva portato ancora con il lattaio per carità oggi magari lo porterebbe amazon quindi fondamentalmente non è cambiato molto no e insomma contestualmente a quel nel momento in cui quel gruppo di cinciallegre ha preso quell'abitus è stato trasmesso wireless se vi consentite a migliaia di chilometri di distanza da altri cinciallegre quindi come se quell'informazione no e se viaggiato nell'etere e quindi diventando poi patrimonio comune di tutta la specie ecco queste sono sono verità o comunque diciamo evidenze che ovviamente riscrivono totalmente i paradigmi della scienza quantomeno occidentale perché appunto come abbiamo già detto non era non sarebbe una sorpresa per chi si è abbeverato al sapere orientale però invece noi cadiamo giù dal dal letto nel momento in cui andiamo a vedere che proprio un biologo è andato affrontare questi 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 concetti lo possiamo vedere anche noi facilmente anche senza un team di scienziati no li lasciamo ai comitati tecnici scientifici quando noi ci rendiamo conto quando vediamo le api che costruiscono un alveare scegliendo l'esagono e non altre forme geometriche perché l'esagono è chiaramente la è la forma che meglio si adatta che ha un innanzitutto un per costruire un involucro di quel tipo perché perché gli angoli di 120 gradi danno maggiore stabilità perché l'esagono ha un miglior il miglior rapporto perimetro aria perché non verrebbero lasciati degli spazi tra un esagono e l'altro mentre invece immaginate fare un esagono con delle con dei cerchi no ci sarebbero appunto degli spazi quindi verrebbe sprecato del materiale perché proprio l'intelaiatura a esa esagonale permette una perfetto una perfetta distribuzione del calore infatti l'alveare raggiunge una certa temperatura anche perché quella temperatura serve necessaria proprio per far crescere insomma le uova maturare le uova perché l'esagono perché le api nel momento in cui nascono sanno già cosa devono fare non apprendono niente le api non c'è qualcuno che gli spiega no loro lo sanno dove captano queste informazioni ecco sheldrake arriva alla teoria dei campi morfogenetici laddove questa teoria dice che ogni specie accede ad un campo di informazioni informazioni che riguardano tutto il loro retaggio quindi se questo vale per le api se questo vale per le cinciallegre e metteteci tutte le specie che volete perché non dovrebbe valere per l'uomo certo nel nell'uomo c'è una variabile che per esempio nelle api non c'è e quella variabile è l'ego motivo ma il che non vuol dire che non esista quel campo quindi semplicemente l'ego proietta un'ombra che ci fa credere o meglio non ci fa vedere quel campo sicché noi ogni giorno siamo condizionati da delle informazioni che comunque nel nostro intelletto vengono scaricate costantemente da questo cloud della coscienza da questo serbatoio psichico universale che jung chiama inconscio collettivo ecco io più volte ho detto per tutti gli amici ancora più che follower di facciamo finta che hanno avuto modo di ascoltare diciamo le nostre le mie interviste con con gianluca sanno che io il mio cavallo di battaglia è la storia si ripete no cioè e vado a spiegare poi si vado a portare delle evidenze no del se è vero no che la storia si ripete ecco qua finalmente noi troviamo una risposta troveremmo perché comunque stiamo facendo finta che stiamo facendo finta che però insomma bisogna anche farlo bene perché la storia si ripete e qua nel momento in cui noi sappiamo che ogni generazione va a pescare va a scaricare diciamo quelle informazioni che chiaramente sono la storia no il retaggio che cos'è la nostra storia no è evidente che quindi noi ripetiamo la stessa storia proprio perché noi andiamo tutti noi anche le generazioni future se ci saranno no visto se andiamo avanti così ripeteranno anche loro quegli eventi perché loro scaricheranno sempre le stesse informazioni ok quindi questo spiegherebbe in soldoni no il perché dell'eterno ritorno delle dei bava chakra no delle ruote del del divenire no perché appunto noi scarichiamo sempre le stesse informazioni 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 che ovviamente vengono arricchite vengono arricchite ma la struttura del mondo sensibile la struttura della realtà è la stessa segue gli stessi schemi così segue le stesse geometrie no quindi questo è il il tema di fondo poi io certo vado a fare delle analisi su quali sono queste simmetrie che si reiterano in quel pentagramma universale che è la storia no e andando ad analizzare proprio gli archetipi nel senso proprio jungiano ossia i dei paradigmi esistenziali che noi troviamo costantemente nella storia da che ne deduciamo che certe se la storia è vero che è una sceneggiatura però ha certi ruoli che sono fissi sono diciamo soggiaciano ecco a tutte le a tutte le nostre vite quindi esattamente come gli archetipi dei tarocchi no abbiamo dei ruoli nei nei archetipi dei tarocchi no quindi c'è il il papa c'è l'imperatore no quelli sono proprio dei dei paradigmi ecco esatto così sembra funzionare appunto la la storia ora io il paradigma l'archetipo che vado ad analizzare sarebbe quello dell'imperatore se vogliamo fare la paragone con i con i tarocchi di cui ripeto non me non me ne intendo è non non ci entro nemmeno ne esco subito per evitare che qualcuno magari mi possa contattare chiede che già comunque mi contattano più persone chiedendomi sul sul che cosa accadrà domani ma questo lo dovrebbero fare le persone poi no perché lo scopo è rendere autonomi le persone nel capire il passato no proprio per poi avere una una un'aspettativa su ciò che avverrà nel futuro e quindi prepararsi prepararsi psicologicamente no fondamentalmente anche questo poi l'obiettivo che è che il motivo per cui anche già luca ha creato no questa realtà di facciamo finta che no proprio perché dall'altra parte ci sono persone che infatti cercano di controllare il passato al fine di tarparci le ali inibirci il futuro quindi noi dobbiamo fare lo stesso assumerne lo stesso lo stesso impegno no ma in senso contrario ecco l'archetipo che a me interessa di più è quello di cesare se vogliamo quello del buonaparte che comunque fu il cesare dell'ottocento per quale motivo e beh perché fondamentalmente dal punto di vista politico è quello più importante quindi abbiamo visto come poi dopo la politica si interessi a noi anche se noi ci disinteressiamo di lei quindi quindi non possiamo permetterci di ignorare che cosa comporti quando quel paradigma raggiunge il suo zenith ok quindi quando sale al potere cesare il la tensione nel nel mondo è massima perché la il cielo della storia la dialettica dello spirito raggiunge i suoi estremi e quindi il mondo si polarizza come mai è successo negli anni precedenti no e ripeto lo abbiamo visto adesso prima lo avevamo studiato chi chi meglio chi più chi meno no a scuola adesso l'abbiamo visto proprio perché noi ci siamo entrati dentro la storia quindi l'archetipo che si ripete sempre quello che ritorna ciclicamente a bussare alle porte del nostro cuore del nostro spirito della nostra ragione è quello del buonaparte no ma le tinte sono sempre più oscure perché se vogliamo fare un paragone tra la storia e il dna no ogni volta che lo spirito fa un giro su se stesso si aggiungono degli errori errori determinati da che cosa da una progressiva perdita di linfa no quindi chi ha studiato a qualche nozione anche rudimentale di fisica sa che infatti ecco questo fenomeno è ben spiegato dall'etropia no quindi c'è parte dell'energia che viene dispersa progressivamente fino a quando non so penso forse l'universo collasserà per poi un nuovo per un nuovo inizio no quindi come come se fosse un battito cardiaco no progressivo e quindi questo spiegherebbe perché anche i suoi attori anche i suoi attori gli archetipi scusate di di riferimento ogni volta sono più patetici no sono sempre più grossolani noi lo possiamo vedere tranquillamente proprio guardando già la differenza che c'è tra napoleone considerate che mentre nell'ottocento mentre c'era napoleone in europa dall'altra parte c'era stato george washington quindi anche loro hanno condiviso esattamente lo stesso archetipo di cesare solo dall'altra parte dell'oceano no infatti c'erano state due rivoluzioni quella rivoluzione francese infatti è stata figlia di quella americana e anche lì abbiamo visto proprio un generale che si è sostituito a un monarca negli stati uniti america il monarca era il buon re giorgio mentre invece nel in europa era luigi 16 e se andiamo a guardare le loro tappe esistenziali sono praticamente esattamente le stesse persino george washington ha avuto la sua campagna di russia ma fu in canada no e sortì però effetto contrario rispetto a quello di napoleone che invece era già un cesare più attempato no che invece lì la sua campagna di russia fu la sua tomba proprio perché l'impero americano era all'inizio no entrambi poi sarebbero finiti avvelenati con con dell'arsenico nel loro tenuta in una tenuta coloniale inglese no quindi in esilio ecco comunque per tornare ai alla all'archetipo del buonaparte nel novecento noi lo vediamo ritornare lo vediamo ritornare in altri popoli e la mia idea è proprio questa mia la mia convinzione è proprio questa cioè che parliamo appunto di facciamo finta che questo archetipo sia esattamente come un germe no questo è un germe che non può rimanere intrappolato in un singolo individuo anche perché il mondo è grandissimo no e le persone e le persone e il pubblico è sempre più vasto noi infatti vediamo nel novecento come questo archetipo si espanda si si allarghi viralmente a diversi popoli e noi quindi lo troviamo lo possiamo trovare in italia possiamo trovare in germania lo possiamo trovare in francia lo possiamo trovare in inghilterra in russia anche negli stati uniti d'america noi abbiamo studiato una falsa storia che ha opposto i cattivi noi dittatori hitler mussolini contro i buoni no nella fatti specie de gaulle churchill e un asterisco su stalin nel senso che ovviamente benché sia per tutti gli storici veri no il contributo della russia e del suo tirannico leader no che certamente stalin non era liberale no sono morti milioni di persone nei gulag quindi però nonostante questo il contributo del di stalin del del e di 20 milioni di russi no è stato decisivo per arginare lo spettro del nazifascismo ecco già questo ecco però tutti questi leader di cui che io gli ho detto avevano tutti quanti lo stesso archetipo napoleonico e nel libro chiaramente lo articolerò nel dettaglio io qui posso soltanto accennarle brevemente a costo di sembrare approssimativo però ripeto queste interviste non servono per spiegare cosa c'è scritto tutto nel perfilio per segno ma per lanciare degli input poi dopo a prescindere da chi io prenderò meno libro chi se ne frega nel senso no è anche poi importante che ognuno faccia delle proprie ricerche individuali no noi lo possiamo vedere anzitutto partiamo per esempio da stalin stalin anche lui come napoleone veniva da un altro paese quindi la giorgia napoleone non era francese era corso era italiano fondamentalmente no che sale al potere dopo una grandissima rivoluzione la più grande rivoluzione dopo quella francese rivoluzione russa la rivoluzione russa tra l'altro si era era nata esattamente poi come come quella francese dove fondamentalmente c'era più del 90 per cento della popolazione che erano dei servi della gleba e che dovevano poi sfamare oltre che a se stessi no ma diciamo un elite no e al vertice di questa elite c'era chiaramente lo zar nel novecento era nicola secondo ora questo sistema collassa nel novecento rischiò di farlo nell'ottocento quando napoleone arrivò quando napoleone comunque conquistando l'europa esportò diciamo le le conquiste liberali ottenute dalla dalla attraverso proprio il sangue della rivoluzione francese no quindi cominciarono a declinarsi le prime carte costituzionali è vero napoleone divenne imperatore ma non era più per grazia di dio no e ma per volontà del popolo e noi questo lo abbiamo visto pari pari per esempio con mussolini sì è vero fu una dittatura ma aveva il sostegno di milioni e milioni di italiani lo abbiamo visto anche oggi lo abbiamo visto anche oggi dove il il plebiscito fascista del novecento è stato sostituito da dagli ab quindi no le urne elettorali si sono spostate negli ab comunque tornando indietro nel novecento quindi la rivoluzione russa cosa succede facendola proprio in breve no quindi esplode la rabbia della delle persone che viene canalizzata dal movimento bolscevico al cui alla cui testa si erge un nuovo avvocato del popolo nel nell'ottocento era robes nel alla fine del settecento fu robes pierre no nel novecento in russia è lenin il problema è che il governo del popolo non è un governo illuminato come già lo abbiamo visto la con la rivoluzione francese no alla fine il parto dell'illuminismo fu sì i diritti la carta dei diritti dell'uomo ma fu anche la follia più totale la 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 legge dei sospetti la l'uccisione la di di migliaia migliaia di di persone no la fuga di nobili di nobili tanti altri cioè era sufficiente no che si alleggiasse il sospetto che di un contro rivoluzionario eccetera per 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 perdere la propria testa fu quindi instaurato in francia il comitato di salute pubblica no molto interessante l'avvocato del popolo il comitato di salute pubblica quindi il bene comune declinato in termini sanitari e il terrore no quindi mentre io io parlo del novecento dell'ottocento ma è chiaro il riferimento a oggi solo che di oggi come ben sapete non è possibile parlare liberamente per questo che e e ognuno ognuno di voi dovrà aggiungere con i ricordi di oggi no le tappe che io vado insieme a gialluca rievocando ebbene la stessa identica cosa succede con lo stesso schema con la stessa successione di eventi in russia anche lì viene instaurato un una sorta di un equivalente di un del comitato di salute pubblica e quello dei soviet no quindi anche lì la la missione è universale cioè espandere estendere quella quella veltanschau quella visione del mondo non solo nella russia ma in tutto il mondo no e per quello che infatti vennero poi dopo promulgate diverse internazionali ma questo era sulla carta nella realtà la venne istituito un appunto vennero conferiti poteri assolutisti alla cieca che fece esattamente come quindi a questa polizia questo a questo corpo poliziesco che fece appunto stragi di migliaia migliaia di persone sulla base dell'arbitrio chiaramente no quindi anche lì il contro rivoluzionari oppositori erano stati erano dei nemici che dovevano sparire no quindi vennero perpetrati gli stessi identici crimini ma chiaramente su scala più elevata comunque per farla breve ripeto non è adesso mi interesse andare ad analizzare il bolshevismo e la sua il suo pensiero no comunque alla fine l'hienin farà la stessa fine avendo lo stesso archetipo di robespierre farà la sua stessa fine robespierre non poté fu vittima della sua stessa macchina del terrore venne ferito alla 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 mandibola e quindi non poté usare la sua lingua la sua dialettica no affilata che aveva conquistato plate e popolo almeno a principio e quindi non potè più non potendosi difendere praticamente lui che aveva utilizzato la lingua come la spada ecco venne giustiziato anche lui no l'hienin invece ebbe lui venne colpito da un proiettile qualche anno prima di morire questo proiettile non non lo uccise ma molto probabilmente il piombo cominciò ad avvelenarlo lentamente fino a quando poi dopo non manifestò dei problemi alla al cervello di natura sclerotica e quindi cominciò poi a perdere progressivamente l'uso della della parola quindi no anche lui ebbe una sorta assai simile a quella di robespierre tanto che impedì proprio la inibì la dialettica no del del grande l'hienin no e quindi alla fine venne poi dopo sostituito rimpiazzato in quel vuoto di potere che lasciava ma un vuoto di potere che si era declinato in termini giuridici no avevano creato comunque delle premesse costituzionali per un potere assoluto questo potere sarebbe a questo questo potere sarebbe passato in mano a joseph stalin il che non era certamente l'erede che sperava no l'hienin anche perché erano comunque stati diciamo in competizione no non erano non erano amici come poi dopo la propaganda come la propaganda poi dopo sovietica dell'epoca no invece cercò di però stalin fu molto intelligente nell'infilarsi nel solco dell'eredità e dell'estetica no creata da dall'alienin ecco no proprio per generare una continuità che lo autorizzasse a agli occhi del popolo a governare anche nel nome suo e del bolshevismo di cui li fa le interprete quindi abbiamo la stessa identica situazione anche qui chiaramente come successe nel nel 1789 no quindi a seguito della dello scopo della rivoluzione francese chiaramente i reali dovevano essere giustiziati no quindi ricordiamo luigi 16 e maria antonietta che vennero decapitati e il il figlio venne tra l'altro internato morì luigi 17 morì giovane insomma fece anche una bruttissima fine non gli vennero nemmeno cambiati vestiti quindi crebbe con dei vestiti da pargo da bambino insomma fece una veramente una brutta fine ecco i romanov noi sappiamo tutti che vennero fatti a pezzi su ordine di chi di lenin mentre anzi diede interessante è che mentre diede l'ordine lenin di far uccidere lo zar e la sua famiglia stava in quel momento dettando delle dei decreti in termini sanitari che poi il ministero della salute avrebbero dovuto applicare no mi dice niente l'avvocato del popolo la il bolshevismo di oggi che abbiamo visto declinarsi nel movimento 5 stelle no uno vale uno che cos'è se non il comunismo che uno vale uno tra l'altro è valido quando l'essere umano vale zero no perché tutti gli zeri sono uguali ecco e quindi arriva quello arriva il lupo poi più feroce no in questo caso è stato appunto stalin ma stalin aveva lo stesso archetipo del buona parte quindi anche lui era uno straniero che diventa sovrano assoluto no quindi un uno zar viene sostituito uno zar bianco viene sostituito da uno zar rosso no quindi anche lui viene dal viene dall'esercito lui stalin a dire il vero aveva cominciato come seminarista quindi però poi si rende conto che lì si era reso conto di quanto la la parabola giudaica avesse presa no e al per paradosso diventerà poi un evangelista di un'altra parabola sempre di natura ebraica visto che marx no era ebreo e e che diventerà a sua volta il bolshevismo anche quello oppio dei popoli no esattamente come le religioni contestate dal buon carl marx per paradosso no e niente quindi stalin prende il potere a noi ovviamente non ci interessa dire che era buono era cattivo a noi ci interessa che se andiamo a guardare le sue tappe esistenziali troviamo la stessa identica scesa di napoleone le stesse identiche trame di napoleone e della rivoluzione francese che si portava dietro no di cui napoleone è il compimento finale e anche il tradimento no della delle premesse no motivo per cui poi dopo è caduto e ebbene il stalin però si schiera all'inizio prova a schierarsi a insieme al al nascente ecco impero nazista il reich ma ovviamente non le due forze non potevano coesistere quindi si polarizzano contestualmente noi in italia abbiamo l'ennesimo caporale che diventa imperatore che è venuto mussolini e lo vedremo poi dopo qualcuno potrà dire a che non ha indossato la corona ma è irrilevante perché mussolini infatti che si autoproclamò duce no così come cesare non non si non si mise la corona del re di roma no ma ovviamente presi il potere di dictator no anche perché sapeva benissimo qual era la fine che avevano fatto l'ultimo re di roma no a partire anche dallo stesso romolo che poi venne ucciso proprio da un condannato dal senato con l'accusa di volersi con l'accusa di essere un despota quindi in cesare la ritroviamo proprio per filo e per segno quindi lo stesso archetipo nasce quindi viene reiterato in in italia anzi in italia dire vero in italia succede prima della rivoluzione russa in italia abbiamo l'uccisione di un re che era un umberto primo anche lì stesse premesse che portarono a rivoluzione francese con repressione solo non a parigi ma a milano con una serie di tantissimi morti proprio perché il prezzo del pane era salito eccetera 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 il quindi viene fatta una strage e quella strage avrebbe portato proprio all'uccisione di un re umberto primo a monza quindi anche lì il re al re viene fatta la festa e lì vengono create le premesse per la nascita di del fascismo sostanzialmente ma prima bisogna aspettare la appunto la prima guerra mondiale quindi questo è lo scacchiere si sarebbe ripetuto cioè questa questa trama si sarebbe ripetuta in germania anche lì con una sovversione popolare che avrebbe portato poi dopo alla nascita no della repubblica di weimar e tutte però queste queste republi queste questi governi popolari che nascono sono però l'anticamera dei futuri totalitarismi per per quale motivo perché tutti quanti oltre ad avere figure molto simili no perché si prestano ad ospitare lo stesso virus lo stesso archetipo se mussolini fosse nato in in russia sarebbe diventato stalin se stalin fosse oppure pensiamo anche non so non facciamo questo esempio estremo ma eh se church il fosse nato in italia sarebbe stato avrebbe avrebbe vissuto la stessa parabola di mussolini lo stesso vale per de gaulle infatti è interessante andare ad analizzare anche la vita di de gaulle perché loro furono eh anche loro incarnarono in sé la stessa eh la stessa vita le stesse tappe biografiche proprio di napoleone eh pensiamo appunto a a de gaulle lui cresce alla alle col che alle col militare alla scuola militare che aveva fondato napoleone comincia il suo campagna la la sua prende parte il suo battesimo di fuoco lo ha proprio in belgio proprio dove napoleone finì la sua la sua il suo romanzo no e de gaulle partecipa alla quella che fu la riedizione delle guerre napoleone anche l'ottocento quindi la prima la seconda guerra mondiale diventando e consacrandosi come le general no qual era il grande general colui che utilizzò che elevò il titolo di generali a quello di imperatore se non napoleone anche lui anche de gaulle conobbe l'esilio no e e il potere assoluto perché sì lui fu un eroe di guerra ma poi dopo eh lasciò il lasciò il potere dopo aver ottenuto il potere diciamo la il potere sia a tutti gli effetti assoluto però lui memore della lezione napoleonica si auto esiliò perché voleva avere la delle la delega eh della volontà popolare verrà poi richiamato eh nel 1958 dove lui eh in in un momento di crisi istituzionale a seguito della non gestione della dell'impero coloniale francese viene chiamato appunto quindi ci fu un tentativo di colpe da parte dei militari e allora i politici richiamarono de gaulle che era una figura eh amata da da tutti anche dalla 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 fazione militare dalle lobby militari e però de gaulle lo fece alla sua maniera ossia quella napoleonica quindi fece eh istituire eh fece scrivere una nuova carta costituzionale che dava fondamentalmente poteri semi assoluti al eh al presidente sì che sì lui fu presidente ma come lo fu eh lo Napoleone terzo no presidente di una repubblica ma eh come lo fu Cesare come no se un 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 dittatore un dittatore perché poteva anche scavalcare il la volontà parlamentare come abbiamo visto oggi no Macron quindi che ha bypassato la la il voto parlamentare però democratico perché perché comunque aveva il sostegno popolare infatti nel momento in cui poi dopo de gaulle non avrà più il sostegno popolare appunto non viene mandato in esilio ma si auto esilia no proprio stessa identica parabola eh noi la vedremo in 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 churchill no eh solo che lui sarà un generale dei mari no eh il primo lord dell'ammiraiato e niente ripeto non voglio soffermarmi molto perché sennò poi dopo mi perdo nelle 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 varie biografie vi vi invito veramente a leggere il libro perché è molto interessante io stesso ho scoperto un sacco di cose che non avrei mai detto però quello che è interessante è di come lo stesso archetipo napoleonico si diffonde eh in tutti i protagonisti che hanno partecipato alla seconda guerra mondiale non ci sono buoni contro cattivi ma ci sono germi e anticorpi no ecco mi vorrei soffermare su questa immagine anche per ritornare un attimo anche al titolo no virologia dello spirito no eh specialmente oggi in cui ci viene venduta una una favola no quella che c'è un cattivo dalla da una parte il buono dall'altra eh c'è la l'aggressore l'aggredito eh queste cazzate qua eh e allora entrerei uscirei quindi da dal dalla storia che comunque inevitabilmente non può non offrire un buono un cattivo no perché la storia la scrivono i vincitori quindi i vincitori saranno i buoni i cattivi saranno quelli che hanno perso ed entrerei invece nell'immunologia ma brevemente no ovviamente non ho un'area in scienze politiche che mi permette di parlare di questa eh di questa disciplina di questa dottrina scientifica ehm però eh possiamo comunque ragionare per analogia fare qualche ragionamento no se noi pensiamo eh a come è fatto come sono fatti i nostri anticorpi hanno una forma una sorta di y assomigliano a delle y perché c'è una parte che è invariabile no quindi non muta e una parte che è invariabile che sono diciamo le braccia di questa y queste servono per ehm prendere tipo le misure al germe che sta arrivando no come se gli facessero l'abito e una volta che trovano ehm la quadra una volta che prendono le misure lo il termine medico è opsonizzano cioè lo smantellano lo distruggono poi attraverso la fagocitosi e l'alisi cellulare no ma questa quindi che cosa vuol dire che l'anticorpo deve essere eh non antitetico cioè diverso dalla minaccia ma deve essere complementare deve essere quindi deve riprodurre la stessa geometria in modo complementare no così da in agganciarlo proprio e poi dopo distruggerlo ecco se quindi mi concedete questo paragone noi abbiamo vediamo la stessa identica cosa nella storia no cioè che cos'è la dialettica che cos'è la tesi e l'antitesi non luce contro tenebra no ma quello che abbiamo visto noi adesso cioè geometrie simmetrie complementari e quindi noi possiamo sciogliere allora il nodo gordiano di uno stalin che non era non è stato meno genocida di hitler no eppure è stato essenziale per opsonizzarlo per smantellarlo e allora noi oggi possiamo capire di nuovo uscendo dalla dialettica ridicola e finta dei buoni contro cattivi e la geopolitica attuale no dove abbiamo da una parte un quello che a tutti gli effetti l'erede del quarto reich solo che ha un epicentro non più a berlino non più a roma roma dire vero era una sussidiaria di berlino no che a sua volta che a sua volta aveva una diciamo una una sponda amica al di là dell'atlantico no da alcuni da alcuni banchieri americani per così dire americani no ecco oggi a washington oggi è a londra ecco queste sono le oggi è a bruxellesi ma ribadisco bruxelles roma berlino sono tokyo sono delle sussidiarie del 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 reich che oggi è molto più esteso no se noi andiamo a prendere i g7 ecco noi avremo tutti i membri dei dei paesi vassalli del reich di oggi e quindi noi da una parte abbiamo un quarto reich nel momento in cui il reich si riconsolida e raggiunge lo zenith della sua noi abbiamo dall'altra parte ergersi una forza no che la bilancia che la contrasta che non è diversa nella nella sostanza perché è la stessa sostanza che si è polarizzata no ma che la può contrapporre che la può fermare e e quindi a una a una filosofia malata del gender fluid no volta a distruggere il l'identità dell'uomo a partire da quella sessuale abbiamo comunque una tradizione quale quella preservata per esempio dalla dalla chiesa ortodossa russa quindi è solo un esempio no ma certamente anche appunto in all nell'est non abbiamo il camelot e reartù ma abbiamo comunque una un'autorità molto forte perché se putin è rimasto al potere per più di vent'anni è chiaro che non parliamo di un governo liberale no qualunque cosa poi voglio dire anche perché poi ogni paese non necessariamente deve avere la stessa identica struttura la prima domanda che il primo punto che noi affrontammo all'università durante il corso di filosofia della storia fu qual era il governo migliore bene noi abbiamo visto che la la repubblica si è tramutata in una la cosiddetta repubblica quindi una repubblica democratica si è tramutata in una tirannide laddove il le leggi razziali tanto nel novecento quanto oggi sono state approvate con il parlamento quindi di che cosa stiamo parlando e sono soltanto nomi lo stesso cesare quando abbatte la repubblica in realtà ne abbatte soltanto le vestigia il senato aveva già dato poteri assoluti a pompeo il senato era già preda delle oligarchie no la cosa che ritornano queste oligarchie no ecco quindi non c'era già più una repubblica ormai il parlamento serviva soltanto il senato serviva soltanto per non per legiferare sulla base di un bene comune res pubblica ma sulla base della volontà di pochi ok dandogli un apparente dandogli un apparente legalità una parvenza di legittimità noi oggi putin a prescindere da tutto di cui ripeto meno non competono giudizi di etica che sono troppo miopi per poter inquadrare non lui ma lo spirito del suo popolo e il retaggio che gli incarna all'appoggio del popolo e questo purtroppo vale anche e balso anche per draghi ripeto no se non avesse avuto l'appoggio della maggior parte della popolazione non avrebbe potuto fare niente di tutto ciò quindi ecco questo questo è il discorso quindi abbiamo due forze che si polarizzano e che si completano ma nel senso che si contrastano pur reiterando quindi condividono la stessa intelaiatura condividono gli stessi archetipi ovviamente che cosa succede quando si presenta una minaccia nel nostro corpo no che il metabolì nostro nostro la nostra memoria immunitaria va a pescare no va a creare va a forgiare no una una difesa sulla base del sulla base appunto di quelle che hanno funzionato no e quindi noi lo possiamo vedere anche lo possiamo vedere benissimo nella storia no cioè noi abbiamo avuto napoleone che il 22 giugno 1812 barca il niemen e comincia la sua campagna di russia dall'altra parte abbiamo uno zar no che alla fine poi dopo sacrifica tutto per cercare di fermarlo ecco noi abbiamo nel novecento quando quella stessa minaccia sebbene con ombre più immense si ripresenta ecco che la storia tira fuori lo stesso archetipo ma noi per esempio abbiamo lo zar alessandro primo dopo che riuscì a fermare al prezzo di migliaia migliaia di morti e di una terra bruciata no quindi che inflisse parecchi danni compreso l'incendio poi di mosca la distruzione di mosca della capitale no si andò a rinchiudere in un convento e di questo di questa di questo epilogo abbastanza misterioso dello zar ne parlò proprio Tolstoi ebbene lui quindi da zar si volle allontanarsi dalla dalla sua vita sociale e politica e secondo Tolstoi che riporta proprio questi questo questo fatto questa quella che poi è diventata una sorta di leggenda ma divenne proprio si rifugiò poi in in Siberia ecco no in un monastero insomma come una sorta di eremita la cosa fantastica è che noi nel novecento abbiamo invece Stalin che fa il percorso contrario cioè che da seminarista siberiano diventa zar no e ma per quale motivo perché appunto la storia si ripete ma quello che prende il testimone no lo prende dall'epilogo della vita di di quello che l'ha preceduto e così per esempio nell'ottocento ne abbiamo visto Luigi Napoleone diventare Napoleone terzo che raccoglie il testimone dallo zio no ma da dove dall'esilio Napoleone venne esiliato dal 1815 al 1821 anno in cui muore Napoleone il futuro Napoleone terzo comincia la sua avventura politica con sei anni di esilio perché viene arrestato durante un tentativo di di rivolta no di di insurrezione viene arrestato e rimane prigioniero per sei anni Adam no da da cui poi dopo scapperà e comincerà la sua la sua epopea no quindi tutto comincia di nuovo laddove era finito ma nello stesso identico modo c'è una simmetria proprio che è una simmetria proprio tra i vari tre 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 i vari cicli no ma ogni ciclo è contiguo a quello precedente quindi comincia da dove venne da dove finì e così noi oggi possiamo vedere nel momento in cui è ritornata la minaccia nazista perché è di nazismo che stiamo parlando abbiamo dall'altra parte una figura come appunto l'attuale leader della russia che incarna esattamente lo stesso archetipo di joseph stalin ok e quindi si ritrova a vivere lo stesso lo stesso momento perché ritorna lo stesso identico momento storico ecco adesso io attraverso alcune immagini adesso qua che che te le chiamo vorrei che voi faceste un piccolo salto di immaginazione ho visto che il l'hashtag è facciamo finta che no e che quindi parlaste più più voi che che il sottoscritto perché come ben sapete non è facile poter parlare no la difficoltà di esporre oggi è proprio quello di cercare di usare le parole giuste se gialluca mi puoi chiamare l'immagine dice il nostro attuale premier alla presentazione del libro di bruno vespa e ecco questa immagine dire vero dice già tutto noi abbiamo appunto bruno vespa la presentazione del libro perché l'italia amo mussolini e abbiamo i due leader due interpreti della di quei di quei due partiti che sono sempre stati accostati al fascismo no dalla dalla sinistra dalla sinistra dalla sinistra ripubblicana democratica no e che non si è chiaramente certamente distinta per essere appunto antifascista al di là degli slogan però ecco già noi in questa immagine abbiamo abbiamo comunque una finestra di una finestra aperta spallancata nel novecento cioè innanzitutto noi abbiamo veramente visto che attraverso queste purtroppo per coloro che l'hanno votati proprio per fare esattamente il contrario di quello che poi è stato fatto abbiamo purtroppo da una parte l'ex leader della lega perché ovviamente è stato poi dopo detronizzato da dalla suo dal suo programma politico per cui appunto era stato votato e non possiamo non riconoscere che attraverso il contributo della della lega quindi della destra sono state approvate le nuove leggi razziali no con nonostante lo stesso lo stesso salvini avesse detto una settimana prima che erano impensabili no quindi dovrebbe essere giudicato dalle sue stesse parole e la lega che ha rievocato tra l'altro lo stesso sebbene con un altro simbolo proprio il concetto del fascismo del fasciolitorio del fascio che no che rinchiude che che contempla che abbraccia tanti individui che quindi diventa appunto in una lega inossidabile no a sua volta fu questo poi tra l'altro la e questa la storia del simbolo della lega lombarda ma quella dei tempi del barbarossa non quella di umberto bossi no quindi ancora una volta comunque abbiamo la cosiddetta destra che in realtà nel è nata comunque dal dal socialismo no anche nel novecento il fascismo fu un parto del socialismo no che arriva a dare un contributo importante anche sebbene contro la propria volontà no sebbene contro la propria volontà di le nuove leggi razziali perché noi nel nel novecento abbiamo l'approvazione delle leggi razziali non nel 1924 quando mussolini conquista il potere definitivamente ma nel 1938 su suggerimento su ispirazione su imposizione dell'agenda italiana no nazista ovviamente però il tempo adesso è molto più veloce anche perché ripeto le le siamo la linfa l'energia che è stata impegnata dallo spirito del mondo per questa mitosi spirituale no è stato è stato consumato e quindi i governi durano molto di meno ma la tragedia e le conseguenze che hanno innestato sono inversamente proporzionali al tempo del loro mandato no e sì che appunto per l'approvazione di quelle leggi razziali cioè basate su pregiudizi quindi giudizi a priori fatti principi antiscientifici no è costato è costato proprio la il consenso popolare no al a quel fascismo 2.0 no se mi consentite la battuta ma era già pronto qualcuno che ne raccoglieva il testimone e quindi arriviamo al secondo errore fatale e letale no del fascismo del novecento cioè quello di entrare in una guerra mondiale no è una guerra mondiale che avrebbe visto come primo nemico proprio la russia perché non dimentichiamoci che il fine della seconda guerra mondiale almeno per quello che riguardava hitler no quindi per quello che riguardava il popolo tedesco era il lebensraum cioè il benenstraum cioè la conquista dello spazio vitale di un proprio spazio vitale per il popolo tedesco ad est per via delle sue risorse per via delle sue materie prime per via delle sue ricchezze no poi per per altri che hanno chiaramente finanziato la macchina nazista il fine era anche non solo l'igiene del mondo attraverso lo sfoltimento della popolazione mondiale ma ottenere uno stato molto particolare in palestina e chiudiamo l'argomento di tutte le foto che si vede anche un'anteprima se vuoi facciamo una carrellata chiamamene tu così adesso infatti dopo dopo aver visto quindi come gli archetipi ombra quindi farseschi del duce sono ritornati no addirittura si sono dovuti avvicendare nel giro di poco tempo no perché si sono bruciati velocemente e anche questa che attualmente al al potere si brucerà con la la disfatta cui noi stiamo andando incontro no quindi è soltanto una questione di aspettare che che maturi no questo questo tempo che basta vedere quanto sono durati poi i governi conte draghi no per capire che anche quello attuale non è costruito per durare per sempre perché le premesse su cui costruito sono false e nefaste sono marce no per poter andare adesso alla alla prossima alla prossima slide alla prossima alla prossima foto per esempio se mi chiami già luca quella del diversa il che sono anche delle foto molto significative su cui ho insistito particolarmente sì perché perché sono importanti adesso mandami anche quella quella sotto proprio di sempre di versailles ecco che in particolare ecco versailles vertice informale dei capi di stato nel governo vorrei porre l'attenzione sulla parola vertice informale no cioè quando è che uno usa l'aggettivo informale quando stiamo parlando in realtà di un qualche cosa di importante no facciamo una chiacchierata informale quindi senza troppe etichette senza troppi barocchismi no ecco ebbene la storia noi oggi siamo entrati nuovamente nel film del novecento proprio attraverso questi trucchi estetici sì che nessuno si è reso conto che dal 2020 al 2022 abbiamo vissuto la prima guerra mondiale o meglio qualche pochi milioni pochi milioni di italiani se ne sono resi conto no della guerra che abbiamo passato della guerra che abbiamo subito la maggior parte degli italiani no proprio perché noi abbiamo seguito non nell'istinto ma vi ricordate all'inizio quando abbiamo parlato del cloud della coscienza e della della del campo morfogenetico con i dati noi abbiamo scaricato come tutti abbiamo attinto a quei a quei a quei dati quelle informazioni che appartengono al nostro retaggio no ma il nostro grado di evoluzione ci ha permesso attuale no che chiaramente è differente in ognuno di noi però se noi abbiamo visto determinate cose è proprio perché il nostro subconscio quei dati molti di quei dati non tutti molti di quei dati li ha saputi leggere non ci sono stati preclusi no perché immaginate immaginate il vostro grado di evoluzione come la capienza del vostro hard disk oppure come ecco diciamo che sì la capienza del vostro hard disk però non rende bene l'idea ma comunque è come se voi aveste un software che vi è in grado che vi permette di aprire o meno determinati determinati contenuti no ecco non tutti lo hanno avuto e quindi si sono allineati perfettamente acriticamente ma io sono sicuro che nelle persone che hanno saputo leggere questi eventi si sono risvegliati in sé delle emozioni delle sensazioni che probabilmente non hanno mai provato non in questa vita no non in questo non in questo momento e che però abbiamo è come se fossero diventati come se fossero diventati attuali no proprio perché noi abbiamo scaricato quei dati no e il nostro grado di preparazione a questo evento ci ha permesso di saperli decodificare non è nel quello che questo l'evento a cui noi siamo andati incontro non è un qualche cosa che capita spesso non parliamo di una stagione politica come le altre è una cosa che è stata vista dall'umanità solo sei volte negli ultimi duemila anni no quindi io nel libro la guerra dell'infinito l'ho anche affrontati questi questi queste volte no cioè nel 166 dopo cristo nel 541 nel 1348 nel 1918 e oggi quindi quel quei ricordi quelle emozioni quegli abitus quelle quelle etiche che sono state generate in concomitanza con questo con con questo schema esistenziale non sono state perdute esistono tuttora no in questa specie di multiverso storico ma non tutti che cosa vuol dire essere con essere consapevoli vuol dire appunto rendere attivi da uno stato di latenza quelle informazioni là chi è riuscito a farlo è riuscito a capire a prescindere che conoscesse o meno che avesse studiato o meno storia al liceo o che ha dalla laurea dal tipo di lavoro che fa dalla dall'estrazione è riuscito a leggere quelle informazioni che sono inconsce ok questo questo è il fine del delle mie opere della mia della mia della mia missione ecco la mia chiamiamo la missione non 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 divina almeno mia missione mio mio compito che mi sono che mi sono dato no ecco però chiudo dicendo proprio questo no cioè che gli altri non l'hanno visto perché sono stati ingannati dall'estetica no della storia che è cambiata e quindi è stato sufficiente parlare visto vertice informale per nessuno per far sì che nessuno si rendesse conto che la prima guerra mondiale del ventunesimo secolo si è chiusa versailles esattamente come nel novecento perché tanto non c'era il congresso di versailles no come abbiamo studiato a scuola ma un vertice informale no abbiamo visto poi dopo quanto informale è stato ma poi che cosa è stato deciso se vai a cercarmi tutti i pupazzetti in ordine vai sopra sopra ecco se vai eccolo qua e qua c'è la verità no pronte nuove sanzioni contro la russia cioè al vertice di versailles non solo non 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 era non c'è stata quella riunione per così per salutarsi tra amici no ma perché doveva venire venire decisa già la seconda guerra mondiale no uno dirà e beh certo la russia aveva invaso no a febbraio e quindi quello è avvenuto l'undici dodici marzo ma in realtà se noi andiamo a sentire la la wonderlion che lei già qualche mese prima a lei sono dichiarazioni di due mesi fa già aveva detto che uno due mesi fa aveva detto che le sanzioni con la russia erano già state programmate mesi prima avevano addirittura lavorato giorno e notte poveracci no per per queste sanzioni no quindi distruggere l'economia europea e distruggere esattamente quindi il e così se noi pensiamo anche agli accordi di la merkel ha detto che gli accordi di minsk che sono stati fatti nel 2015 sono stati fatti soltanto per dare tempo appunto all'ucraina di armarsi prendere attraverso ingannare la russia e prendere tempo esatto esattamente no armato dalle persone che noi sappiamo parliamo di un piano ben stabilito no quindi però è importante è importante come anche questa volta le sanzioni sono andate a colpire in primo luogo il cuore dell'europa ossia l'italia e la italiana esattamente come nel novecento no abbiamo visto esattamente come nel novecento una vermat nuova no superare la frontiera puoi andare adesso sul sul nostro carissimo premier tedesco ok e perché perché sostanzialmente che già è proprio si vede no che è proprio il leader tedesco come bello orgoglioso di aver mandato finalmente questi leopard no ovviamente senza conducente come se fosse un noleggio no che poi sostanzialmente un po è così quindi formalmente abbiamo ancora un dei panzer tedeschi mandati per portare morte ad est no sul fronte orientale però è soltanto lato vestigiale no perché la guerra si è combattuta su un altro fronte che è quello finanziario ne ho parlato infatti proprio con con te gialluca e gianmarcolandi no in una delle tue ultime puntate del gialluca lamberti show perché la guerra si è combattuta sulla in primo luogo ehm con la finanza quindi l'artiglieria di oggi no si è combatte sulla finanza se vai in fondo c'è l'immagine proprio del dell'equivalente eccolo la va sullo swift esatto dell'equivalente della eh operazione barbarossa di questo secolo no cioè non solo le sanzioni economiche ma anche lo eh sganciamento della russia dallo swift questo se noi andiamo a a rileggere le dichiarazioni dei finti leader eh europei avrebbe dovuto comportare il default della russia in pochi mesi ok ehm ma loro pezzeremo le reni alla russia esatto il problema è che questa questa frase queste frasi che sono state recitate non erano propaganda non all'inizio all'inizio era una loro ferrea convinzione così come era ferrea convinzione quella di napoleone di andare in russia a menare le mani e e vincere come aveva sempre fatto così come era ferrea convinzione quella di hitler di fare una guerra lampo ve lo ricordate la guerra lampo in russia no quindi loro erano veramente convinti che con questo avrebbero decretato la fine e quindi la banca rotta del 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 paese no della dell'economia russa in realtà questo esattamente eh come fu nel novecento no fu l'inizio della tragedia occidentale no perché chiaramente le sanzioni e lo sgancio dallo swift ha portato dei danni ma l'attuale leader russo ha calcolato quale fosse il minore dei mali no e quindi quello era il minore dei mali perché comunque lui ha potuto appoggiarsi su altre economie su un'altra valuta eh che è appunto quella cinese quindi eh questo è importante per capire come comunque l'estetica ehm vestigiale cioè quindi abbiamo nuovamente dei carro armati che che sfilano per portare morte a oriente no questa volta senza conducente quindi parlai proprio di Wehrmacht fantasma eh è avvenuto eh ma la la battaglia si è combattuta sul piano finanziario a tal proposito menziono un aneddoto cioè il fatto che a dire il vero nel novecento la stessa Wehrmacht la stessa Wehrmacht in realtà era una riverniciatura di mezzi francesi perché i tedeschi avevano conquistato la Francia in un mese nel millenovecento eh quaranta e quindi che cosa fecero con i tedeschi avevano praticamente preso molti dei mezzi della Francia infatti il regime di Vichy sostanzialmente andò a occupare la parte più ricca la parte industriale della Francia e quindi in Russia ci andarono nel novecento ci andò alla grande armée di Napoleone no quindi mezzi francesi no riverniciati di di nero no quindi è avvenuta la stessa identica cosa oggi no quindi questo è abbastanza farebbe ridere se non fosse tragico ecco adesso che tu Gianluca hai messo i tuoi amici nostri amici qua che sono belli sorridenti con la camicia bianca no perché il bianco che cos'è simbolo no teoria di 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 pace no è un il bianco tra l'altro è la somma di tutti i colori no di luce perché perché ovviamente le camicie brune del novecento potevano secondo te essere no riportati in auge no perché sennò qualcuno avrebbe potuto dire no ecco 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 i fascisti che sono tornati no e quindi sono ritornati i camici bianchi no dei i camici bianchi dei dei dottori che hanno tradito eh non solo il giuramento di Ippocrata ma l'umanità no e anche le camicie bianche no quindi i camici e le camicie bianche e perché sono tutti belli sorridenti qua i i g7 dove ci sarebbe dire vero di fare qualche croce per esempio sul sul nonno degli italiani su Boris Johnson ma perché sono felici perché stanno parlando eh qua viene sostanzialmente decisa la la prossima tappa che avverrà a maggio che si dovrebbe tenere insomma anzi non si dovrebbe tenere si terrà a Hiroshima no un convegno dei g7 che sono esattamente i membri del quarto reich di questo secolo del reich di questo secolo per parlare di che cosa boh non lo so abbiamo probabilmente si tratterà di un convegno informale come quello di Versailles sicuramente sarà qualche cosa di importante no ovviamente se sono andati Hiroshima è chiaro che il fine è quello di sventolare la bandiera del disarmo nucleare ma come ha detto Giorgio Agamben il grande Giorgio Agamben per sapere la verità oggi è anche abbastanza facile basta ribaltare tutto quello che ci viene detto dalla televisione e dai giornali no quindi se loro ci diranno che lo scopo il fine è il disarmo nucleare è chiaro che vanno cercando proprio invece una una miccia no che porti proprio a a a quel tipo di tragedia nessun attacco messilistico ma problemi ma disguidi ma incidenti perché le parole cambiano le parole cambiano quindi la storia abbiamo visto sta ripercorrendo è un treno che sta ripercorrendo le stesse identiche fermate del novecento che a loro volta erano le stesse identiche fermate dell'ottocento anche con la rivoluzione francese si arrivò no a caricare le persone come bestie sui carri per portarli al macello alle ghigliottine così quei carri divennero i treni nel novecento che portarono ai lager oggi non c'è stato bisogno di nessun carro perché le persone si sono accalcate agli open day ok non c'è stato bisogno però noi dobbiamo immunizzarci dall'estetica dei nuovi germi che hanno la stessa hanno lo stesso beneficio dei germi delle generazioni delle secoli precedenti ma hanno cambiato l'estetica o arriviamo al dolce arriviamo al dolce abbiamo parlato dell'archetipo del buonaparte io nel mio libro approfondisco proprio l'archetipo di putin ok no che a sua volta raccoglie il testimone da stalin sì perché si trova abbiamo visto in uno stesso quadro geopolitico si trova a vivere la stessa identica situazione che dovette con cui dovette appunto misurarsi stalin e stalin cercò in ogni modo di conciliarsi di trovare una una pacificazione con i regimi dell'occidente i regimi dell'occidente inghilterra francia e stati uniti compresi perché in in inghilterra churchill nel 1912 aveva allora in inghilterra viene approvato una legge che prevedeva l'internamento coatto delle persone porta dei cosiddetti malati di mente o persone ma diciamo con deficit cognitivi no e churchill aveva addirittura suggerito che venissero anche sterilizzate quindi e vi risparmio quello che disse sugli indiani quindi non parliamo di cioè non è che hitler non era non era l'unico razzista no per arrivare al buon roosevelt il presidente degli stati uniti d'america che fece approvare una legge in cui giapponesi italiani e tedeschi vennero internati nei campi di concentramento in virtù della loro nazionalità no o poi alla all'ideologia comunque razzista che poi portò al suprematismo bianco all'apartheid eccetera quindi gli stati uniti d'america non erano e i loro leader non erano immuni dagli spettri del razzismo ecco ma se noi abbiamo in russia un nuovo buonaparte no dall'altra dall'altra abbiamo no la stessa identica cosa ma chiaramente in che vesti in vesti burlonesche abbiamo detto che ogni volta che si ripropaga che si si riitera la la il germe nel momento dal momento che viene persa energia no da in ogni replicazione esattamente come nei germi no che ci cercano una stabilità con una nuova variante è sempre più farsesca e quindi noi abbiamo manco a dirlo zelensky che nel 1812 no scusate che nel 2012 quindi esattamente 200 anni dopo la prima campagna di russia fa un film che è questo qui che noi vediamo no reschi contro napoleone e lui interpreta proprio le vesti questa volta cinematografiche ma perché lui infatti è un attore no che è stato ingaggiato da un da un oligarca no il buon colomo ischi no che ha pagato la sua carriera no e lui interpreta proprio napoleone ma che ma che tipo di napoleone un napoleone farsesco burlesco no che dichiara guerra alla russia tanto è vero che questo film era una commedia russo-ucraina quindi con attori di ambe e due i popoli che in realtà ripeto sono la stessa appartengono alla stessa matrice e quella commedia è diventata però una tragedia è diventata due anni dopo una tragedia quindi nel nel 2014 e quella tragedia dal momento che non è stata vista da tutto il mondo no ma solo dalle persone che hanno hanno vissuto sulla propria pelle la 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 il sapore del sangue della morte è diventato proprio una tragedia universale perché adesso riguarda tutti no però questo è importantissimo perché fa capire con un'immagine proprio il concetto proprio della reiterazione della storia sempre però contestualmente porta a una maturità un risveglio in alcuni no dall'altra però porta a una a un non so come dire a quello che nel novecento si chiamava genocidio e che noi oggi sentiamo dai telegiornali chiamare ecologia no ecco questo è il questo fondamentalmente è il discorso se puoi far vedere Gianluca ecco questo è un è un dipinto è un'immagine che ha disegnato il grande maestro Gianluca Capaldo da Bologna e che quest'immagine proprio è sintesi del questa volta più sublime insomma dell'immagine precedente no però di quello di cui ho parlato io no c'è degli archetipi della storia che si che si rinnovano con volti nuovi ma con le stesse strutture con gli stessi paradigmi esistenziali no e quindi noi dietro possiamo vedere no ancora una volta la quella statua è una delle statue più colossali più grandi del mondo ed è russia e rappresenta proprio la santa madre russia che chiama il proprio il popolo proprio alla alla rivolta insomma alla guerra alla morte no quindi io spero spero di essere riuscito a illustrare seppur brevemente approssimativamente ma proprio perché non non abbiamo nel tempo per poter guardare i secoli no con in così poco tempo quindi per questo che vi rimando al libro altre nuove puntate o agli incontri dal vivo in cui anche più facile comunicare senza dover utilizzare spedienti no della della liturgia dialettica no e proprio a tiene nella conferenza ci sono stati cinque minuti in cui ci siamo sfogati adesso per cinque minuti togliamo tutti gli algoritmi e dal vivo abbiamo sparato tutte le parole che non possiamo nominare quindi è stata un'esperienza liberatoria catartica la rifaremo la rifaremo anche a torino preparati avrai anche tu i tuoi cinque minuti per dire tutte quelle parole che ti facciamo dire ma non perché siamo cattivi ma perché gli algoritmi sono vigili attenti e più severi che mai ecco questo ci ci tengo a dirlo no ti ringrazio veramente Gianluca perché da quando ti ho conosciuto è come se si fosse tolto un tappo almeno per quello che riguarda nella mia vita e perché mi hai appunto permesso di condividere ciò che so ora poi sta poi a ognuno di noi misurare se c'è una compatibilità anche con la propria esperienza no personale se è vero non so chiedetevelo io non vi dico che è vero però sembra così verificatelo anche voi quello che è certo a me io mi sono comportato in questi ultimi tre anni sulla base di istinti ma vedete la parola istinti la parola istinto in realtà non dice nulla nasconde se io vi lancio un oggetto no e voi lo evitate quello è un istinto no è un riflesso ma le api non fanno non scelgono gli esagoni sulla base dell'istinto che se così fosse allora i compiti di matematica e di geometria no magari qualcuno se la poteva cavare no lì erano proprio informazioni che se tu non hai non scrivi nulla non fai nulla no quindi alcune persone molti di noi hanno sentito di dover fare determinate scelte sulla base di qualche cosa di inconscio no ecco quel qualcosa indefinibile ineffabile che è saltato fuori dal vostro inconscio potrebbe essere potrebbero essere delle informazioni che voi siete riusciti ad accogliere ma che non provenivano da voi ma da questo campo immenso da questa coscienza collettiva che è lo spirito del mondo io vi vorrei leggere due cose di non scritte da me perché appunto non cerco non mi cerco mai di non cerco di non incensirmi mai a me non mi voglio fare non voglio fare pubblicità a me stesso ma alla filosofia ai pensieri ai pensieri di coloro che ci hanno preceduto no e che se noi riusciamo a vedere più lontano più lontano di loro e solo perché loro erano dei giganti questo è quello che ho appreso e vi vorrei leggere una poesia scritta da un poeta russo che è morto nel 1921 se non ricordo male che era bloc si chiamava bloc e e che lui praticamente anticipò incredibilmente quello che sarebbe avvenuto tanto nel suo tempo nel suo paese e in europa quanto nel quanto nel nostro e adesso la vado a cercare un attimo che ve ve la leggo subito perché eccola si chiama gli sciti il riferimento era alle popolazioni del dell'est cioè russi mongoli vengono considerati un un solo popolo no tant'è vero che napoleone quando bruciò mosca si incazzò proprio con con gli sciti cioè i barbari no perché non si aspettavano che i russi sarebbero arrivata tanto no bene cercherò di prendere alcuni estratti quindi non non sono un purista però è per farvi capire quanto alcune persone riescano a collegarsi a quella coscienza e a prevedere gli eventi proprio perché lì c'è già scritto tutto tutta la sceneggiatura del del dell'universo no non c'è distinzione tra passato presente futuro ecco insomma bloc scrive voi siete milioni voi siete milioni noi lungoli si sta rivolgendo agli europei no gli occidentali noi lungoli e lungoli e lungoli provatevi a combattere con noi sì gli sciti noi siamo noi siamo gli asiatici dagli occhi guerci e cupiti per voi i secoli per noi una sola ora noi come servi obbedienti facciamo da scudo fra due razzi ostili i mongoli e l'europa o vecchio mondo prima di soccombere finché ti strugge di un dolce tormento fermati sapientissimo come edipo dinanzi alla sfinge dell'antica dell'antico enigma la russia è la sfinge no quindi la sfinge la russia è la sfinge tra i due mondi no esattamente come oggi no regno di mezzo esultando e affliggendosi e irrorandosi di sangue nero essa ti guarda ti guarda ti guarda con esacrazione con amore di amar così come ama il nostro sangue ormai tra voi nessuno è più capace avete ubliato che esiste un amore che brucia che distrugge noi amiamo la carne il suo gusto e colore la foso mortale odore della carne e colpa nostra forse si scricche il vostro scheletro fra le nostre pesanti carenzevoli zampe ma arriviamo a arriviamo a quello alla parte più interessante no venite a noi dagli orrori della guerra venite agli abbracci pacifici finché non è tardi la spada nel fodero compagni diventeremo fratelli no quindi è un invito di pace a gli occidentali no se no non abbiamo da perdere nulla anche noi sappiamo essere perfidi nei secoli sarete maledetti dalla tarda malata discendenza ma noi d'ora in poi non vi faremo da scudo d'ora in poi non entreremo in battaglia osserveremo quindi qualche cosa stanno dicendo no non entreremo in battaglia non ancora no prima dovrete scannare tra di loro tra di voi fondamentalmente no osserveremo la mischia mortale con i nostri occhi stretti noi lasceremo che luo che l'unno feroce frughi nelle tasche dei cadaveri incendi città spinga in chiesa le mandrie cuocia la carne dei fratelli bianchi ora ragazzi io nel libro i signori della guerra paragonai proprio hitler ad attila ossia il leader dei junni e che già secondo il principio nomen omen no hitler era assai simile al nome attila hitler no in in slavo e nelle sulle sue declinazioni no e quindi qua noi abbiamo praticamente bloc che dice agli europei venti anni prima dello scopo della seconda guerra mondiale appunto gli invita alla pace aveva già fiutato la minaccia contro la russia e i popoli dell'oriente cina compresa perché poi dopo gli americani andranno a rompere le palle anche poi dopo alla alla cina di mao e noi infatti oggi poi vedremo la l'evoluzione non il capitolo 2 no però a parti inverse no quindi storia che si ripete ma a ruoli e casacche invertite e quindi qua abbiamo la menzione di un unno quindi il leader degli quindi chiaramente riferimento a un attila no feroce che dice frughi nelle tasche dei cadaveri incendi città come poi di fatto poi avrebbe portato no con la seconda guerra mondiale ma la cosa interessante è cuocia la carne dei fratelli bianchi cioè parla di persone che vengono bruciate vive no che cosa sono i forni i campi di concentramento che cosa hanno fatto non ho mica cioè non hanno mica fatto questo ecco questo è ripeto non non vado avanti ma è direi che questa cosa qua è ritornata purtroppo anche molto d'attualità anche ai al giorno d'oggi però non volevo lasciarvi con questa immagine molto molto crude ma era un semplice esempio di come persone che per usare un eufemismo diciamo sono dotati di una maggiore sensibilità ma questa sensibilità qui è quello che dicevamo prima no cioè è un certo tipo di evoluzione che ci permette di capire e pre e guardare alla storia ancora prima del manifestarsi dei suoi eventi no volevo lasciarvi con un'immagine molto più più bella più più adeguata proprio anche al tema della puntata che vuole essere un omaggio e vuole fare un po di luce sullo spirito no utilizzando le parole di forse uno dei più grandi storici romanzieri filosofi non ci sei non c'è le parole non sono sufficienti per per definirlo ed è chiaramente il riferimento è al ea tolstoi cioè lui dà una definizione di dio che secondo me tutti dovrebbero dovrà con cui tutti dovrebbero misurarsi no e che secondo me spiega molto meglio di molto meglio in modo più sintetico tutto il discorso che ci siamo fatti e considerate che questa queste parole che vi andrò a leggere è l'ultima lettera che se non ricordo male che scrisse a tolstoi prima di morire la scrisse alla sua figlia e poi tolstoi sarebbe morto di polmonite insomma abbandonato a se stesso e vado a leggere allora dio è quell'infinito tutto di cui l'uomo diviene consapevole d'essere una parte finita esiste veramente soltanto dio l'uomo è una sua manifestazione nella materia nel tempo e nello spazio quanto più il manifestarsi di dio nell'uomo e nella sua vita si unisce alle manifestazioni di altri esseri tanto più egli esiste l'unione di questa sua vita con le vite di altri esseri si attua mediante l'amore dio non è amore ma quanto più grande è l'amore tanto più l'uomo manifesta dio e tanto più esiste veramente quindi in sostanza qua abbiamo una definizione di dio come diciamo dio non è un qualche cosa di astratto di lontano ma in realtà siamo noi che lo andiamo a comporre in noi si manifesta ecco no e che cos'è qual è la porta che ci permette di appunto rivelarlo beh l'amore laddove l'amore è l'empatia no perché se chi non ha chi non lo prova non apre nessuna porta no quindi in noi si manifeste si manifesta appunto questo spirito universale no che possiamo chiamarlo dio spirito del mondo è irrilevante no e noi abbiamo visto proprio che è stata proprio la mancanza del dell'amore l'attesa come mancanza di carenza di empatia che invece ha fatto manifestare esattamente il suo opposto no e e quindi insomma è una bellissima secondo me definizione di quello spirito del mondo che attraverso di noi si può rivelare non quindi noi possiamo accedervi in ogni momento a questo campo a questa coscienza collettiva di cui noi siamo i neuroni no e quindi vi volevo lasciare con questa bellissima immagine di di tolstoi a maggior ragione proprio perché è stato criminalizzato il pensiero russo e in realtà noi proprio i russi abbiamo visto i suoi tra i più brillanti luminosi interpreti non del del pensiero russo ma del pensiero dell'umanità no e quindi invito anche il sindaco sala leggersi forse magari qualcosa magari per evitare di dire ancora cazzate e di fare cazzate e visto che lo dico perché sono di milano no quindi visto che era milano e l'antifascista in realtà si è rivelata proprio il primo epicentro del fascino del neo nulla nazismo nikil nazismo perché persino i nazisti hanno orrore delle generazioni di oggi no e niente vi lascio quindi con questa bellissima immagine grazie davide oltre all'orrore di come sala sceglie i calzini io ne approfitto perché ehm io sono di torino di tanto in tanto un salto a milano lo faccio e mi spiace vedere milano in queste condizioni e devo dire che gente come sala al di là che io sono apolitico ma è veramente quanto di peggio la città potesse in qualche modo ambire perché la la sta in qualche modo distruggendo sia nella viabilità sia nel 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 melting pot nel nel mettere veramente eh le persone l'una contro l'altra sicurezza zero quindi è veramente un peccato e fra l'altro lo andiamo anche a vedere qua 29 aprile dal vivo il numero per prenotare è sempre lo stesso milano esoterica tour con michele proclamato e davide se vuoi fare un salto eh ti salutiamo volentieri ma questo invece è proprio l'evento che per ora grafica provvisoria 14 maggio a torino anche questo già prenotabile sempre il numero a cui eh invito a mandare un sms un whatsapp per eh prenotarsi a teatro insieme a noi abbiamo una grande capienza quindi vi invito a prenotare da da subito e ne vedremo delle belle giusto davide? Sì sì assolutamente io tra l'altro ti ho già comprato il regalo quindi eh quindi è una tessera è una tessera è una tessera quindi per eh comedia regalo è data è data un casino negli ultimi anni per l'accedere dei servizi adesso è un quercode va bene grazie davide grazie a tutti i nostri amici gli amici in chat fedelix in veterani abbonati grazie di cuore a chi può donare in qualunque forma post e pay pay i polli gli eventi dal vivo bonifici insomma ogni aiuto è ben accetto e grazie a questo creiamo sempre nuovi format sette su sette sia sul canale facciamo finta che sia sul canale Gianluca Lamberti in cui alterniamo eh anche l'attualità ai temi di sempre vi invito anche su tutti i social che portano il mio nome e quello di facciamo finta che soprattutto su telegram perché stiamo sperimentando anche eh le chat la possibilità di farci domande dal vivo quindi sono tutte dinamiche nuove per poter eh rimanere più vicino alle persone e perdersi meno messaggi e meno mail di quelle che attualmente ci perdiamo perché per nostra fortuna scrivete in tanti ma per nostra sfortuna non abbiamo un numero di persone sufficiente per star dietro a tutti i messaggi ce ne perdiamo molto quindi chiediamo scusa se eh in qualche modo avete provato a contattarci e non avete ancora ricevuto risposta voi riscriveteci vuol dire semplicemente ci siamo persi il messaggio Davide grazie di tutto grazie grazie a te Gianluca per avermi ascoltato e per avermi dato l'opportunità di condividere queste riflessioni poi ognuno ne faccia ciò che ciò che crede magari io ehm noi stiamo cercando di fare rete ecco mettiamo da parte lì io no ehm sarebbe bello magari anche se ci fosse qualcuno proprio di nazionalità eh russa ucraina o insomma visto che ho visto tra tra le tanti follower di mi facciamo finta che leggo costantemente anche su su facebook in questo caso anche dei bellissimi pensieri da ambe i due fronti ma che in realtà è un fronte unico anche per aiutarmi a tradurre questa 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 opera proprio per portare anche questi questo pensiero più lontano possibile anche magari fuori dai confini italiani e per far capire che soprattutto che in Italia non ci sono cioè in televisione viene dato spazio soltanto a a un certo tipo di soggetti non usano anche la parola uomini ma soggetti no e insomma sarebbe interessante invece far capire che anche in questo periodo c'è qualcuno che invece non ha rinunciato alla propria umanità e al proprio intelletto no quindi e ai propri valori va bene grazie grazie a tutti per la pazienza e per e per il sostegno che date al canale ecco grazie a tutti alla prossima Grazie a tutti